Musica Rubavano auto per poi rivenderle, sette in manette Maxi sequestro di sigarette della Guardia di Finanza Presentato il calendario CITES 2021 Bonifica dei palombari a Capomiseno Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Napoli News Apriamo il giornale parlando dell'operazione dei carabinieri che nelle ultime ore ha messo in manette sette ladri d'auto che operavano tra la zona di Napoli e l'agro Nocerino Sarnese I carabinieri della stazione di Chiaia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di sette persone di cui una sottoposta all'obbligo di firma gravemente indiziate di associazione finalizzata al furto e alla ricettazione di autoveicoli Gli indagati, tutti pregiudicati e residenti nell'area vesuviana, avrebbero commesso tra aprile e dicembre 2018 una serie di innumerevoli furti di autovetture tra Napoli e la provincia ma soprattutto nel territorio dell'agro Nocerino Sarnese Le indagini hanno preso il via proprio a seguito di un furto di un veicolo di grossa cilindrata sulla riviera di Chiaia a Napoli I militari hanno individuato la targa dell'autovettura utilizzata dagli autori del furto arrivando a raccogliere gravi elementi sull'esistenza di una vera e propria holding criminale che con una specifica distribuzione dei ruoli tra gli associati si occupava di individuare le autovetture da rubare predisporre tutti i mezzi e gli strumenti necessari e infine eseguire materialmente il furto I reati predatori venivano commessi utilizzando sempre la stessa tecnica consistente nella preventiva ricerca di un'autovettura parcheggiata in strada da rubare una volta individuata veniva forzato il meccanismo di accensione infine l'autovettura rubata guidata da uno dei complici si allontanava scortata dagli altri e veniva ricoverata in alcuni capannoni preventivamente individuati tra la strumentazione utilizzata per i furti rinvenuta e sequestrata dai carabinieri ci sono chiavi vergini con cui sostituire le originali telecomandi, jammer e dissuasori per i sistemi di allarme e la rilevazione del GPS e sempre in queste ore controlli straordinari predisposti dall'arma dei carabinieri della compagnia di Marano i militari dell'arma in questo caso hanno verificato il rispetto delle norme anti-covid per contenere il fenomeno epidemico 36 verbali elevati, tutti per il mancato utilizzo della prevista mascherina i comuni interessati sono stati quelli di Villaricca, Melito, Mugnano di Napoli durante i controlli militari dell'arma della stazione di Villaricca hanno trovato una sala completamente abusiva di vita a centro scommesse in via della libertà i due titolari, denunciati e sanzionati per l'enorme anticontaggio prendevano le scommesse sportive in assenza di qualsiasi autorizzazione e come ogni inizio settimana pochi tamponi e pochi positivi nella regione Campania ieri il bollettino dell'unità di crisi regionale parlava di 2.158 nuovi positivi a fronte di 15.739 tamponi effettuati 227 i sintomatici, 1.931 gli asintomatici boom di guariti, 2.091 nuovi guariti in regione 39 ancora le vittime e intanto a partire da domani riapriranno le scuole su tutto il territorio regionale per quanto riguarda le elementari e per quanto riguarda le materne e cambiamo notizia parliamo di un maxi sequestro di sigarette effettuato dalla Guardia di Finanza il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso di due distinti interventi ha sequestrato tra Napoli e Portici 180 kg di sigarette di contrabbando arrestando due soggetti originari della provincia di Bari e denunciando a piede libero tre napoletani in entrambi i casi i finanzieri del gruppo di Nola durante i controlli hanno individuato delle autovetture scoprendo diverse casse di sigarette di marca Malboro, LM e Regina durante la prima operazione le fiamme gialle insospettite da due auto che viaggiavano a breve distanza l'una dall'altra sono riuscite a scoprire 150 kg di sigarette nascosti sotto il sedile del passeggero e su quelli posteriori sotto un'infrastruttura telonata scura nel portabagagli e nel vano sottostante il bagagliaio che solitamente accoglie la ruota di scorta la prima auto controllava che il percorso fosse libero da pattuglie delle forze dell'ordine in modo da consentire alla seconda di trasportare in sicurezza il prezioso carico fino a destinazione i finanzieri dopo un pedinamento durato qualche chilometro hanno intimato l'alta le due vetture disvelando il sistema messo a punto dai due contrabbandieri che per portare a termine lo scopo si erano anche dotati di due cellulari da utilizzare esclusivamente per comunicare tra di loro durante la seconda operazione inoltre le stesse fiamme gialle nel centro storico di Napoli in piazza del Gesù hanno sorpreso tre pregiudicati mentre scaricavano 30 kg di sigarette di contrabbando da un'autovettura un viaggio lungo 12 mesi alla scoperta degli animali più rari che valorizza il ruolo dei carabinieri a protezione della flora e della fauna a rischio di estinzione il loro impegno nel contrasto ai reati e ai danni di queste specie presentato online il calendario 2021 del CITES il servizio dell'arma dei carabinieri a tutela delle specie di fauna e flora protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione è entrata in vigore nel 1980 il calendario presentato dal biologo Francesco Petretti e dal generale Massimiliano Conti comandante del raggruppamento carabinieri CITES vede quest'anno come testimonial Licia Colò che lancia un messaggio a tutti i giovani italiani siete proprio voi giovani i nuovi custodi di questi habitat meravigliosi pieni di colori e di vita per migliorare il nostro futuro è importantissimo conoscere e rispettare la natura E continuano incessanti i controlli dei carabinieri nell'area nord di Napoli ieri ennesima operazione di controllo delle misure anti-covid tra Marano, Villaricca, Melito e Mugnano da parte dell'arma dei carabinieri 36 i verbali elevati per il non utilizzo della mascherina anche una sala scommessa è stata sequestrata che operava abusivamente all'interno del territorio di Marano E chiudiamo il giornale parlando dell'operazione antimine messa in campo dai palombari della Marina Militare a largo di Capomisino Prosegue incessante l'opera di bonifica dei palombari del Comando Subacui e Incursori della Marina Militare Italiana per rimuovere dai fondali ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale inesplosi Nei giorni scorsi operazione a largo di Capomisino a Bacoli le operazioni hanno permesso di rinvenire elevati quantitativi di proiettili di grosso e medio calibro e numerosi contenitori di mine anti-uomo Butterfly gli ordigni segnalati dai subacui sportivi giacevano a una profondità di 36-45 metri i palombari sono quindi intervenuti a profondità maggiori di 40 metri grazie agli impianti iperbarici di nave Anteo che hanno assicurato l'adeguato supporto di sicurezza tutti i residuati bellici rinvenuti i posti in appositi contenitori e recuperati con palloni di sollevamento sono stati successivamente neutralizzati e con queste spettacolari immagini dei palombari della Marina Militare vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani con la nostra informazione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti